Bienvenuti. Grazie per il Ministerio del Papa. Cerviamo questa domenica la festa degli Apostoli Pietro e Paolo ed anche il giorno del Papa, una buona occasione per ricordare il compito e la funzione del Vescovo di Roma nella Chiesa e nel mondo, per ringraziare per il loro ministero e per pregare per la persona del Papa e per le sue intenzioni, facendo così ciò che tanto è spesso ci chiede, di pregare per lui. La fede cristiana si basa sulla testimonianza degli Apostoli. Gesù scelse i dodici perché stessero con lui e per mandarli a predicare. Gli Apostoli Pietro e Paolo sono le due colonne della Chiesa. Pietro, leader nella confessione della fede. Paolo, colui che la diffuse. Pietro istituì la prima Chiesa con il resto di Israele. Paolo evangelizzò gli altri popoli cristiani alla fede. Questo è quanto proclama il prefazio della festa di questi due Apostoli. L'Apostolo Pietro fu uno dei primi tra i chiamati da Gesù ed occupa sempre un posto preeminente nei Vangeli. Il Signore Gesù sottolinea questa preferenza con queste parole che diresse a lui. Tu sei Pietro, su questa pietra edificerò la mia Chiesa, il potere dell'inferno non preverrà contra di essa. Il ministero di Pietro nasce della volontà di Gesù, che volle che lui e i suoi successori fossero gli strumenti attraverso i quali lo Espirito Santo costituisce e mantiene l'unità della Chiesa. La missione di Pietro e dei suoi successori è costitutivamente e intimamente associata a Gesù Cristo. Proviene direttamente da lui. Fa sempre riferimento a lui e alla sua presenza viva come capo e pastore invisibile e supremo della Chiesa. E l'esercizio del loro servizio viene ordinato a guidare tutta la comunità e a confirmare tutta la comunità e tutta la Chiesa in piena comunione di verità e di vita con Gesù Cristo. I cristiani, con occasione della giornata del Papa, dobbiamo ringraziare il Signore per il ministero di Pietro e dei suoi successori. Il Papa Francesco, nel rito di canonizzazione di Giovanni XXIII e dei Giovanni Paolo II, disse che essi furono una grande benedizione per la Chiesa e per il mondo perché collaborarono con lo Espirito Santo per restaurare ed aggiornare la Chiesa secondo la sua fisionomia originaria, quella fisionomia che le dieron i Santi nel corso dei secoli. Come esempio di ciò, il Papa Francesco aggiunge che nella convocatoria del Consiglio, San Giovanni XXIII, dimostrò una delicata docilità allo Espirito Santo, si lasciò guidare da lui e fu per la Chiesa un pastore, un guida guidata. Questo fu il suo grande servizio alla Chiesa, per questo mi piace pensare a lui come il Papa della docilità allo Espirito Santo. riferendosi al Papa Francesco a questo servizio dei successori di Pietro alla Chiesa e al mondo, disse che San Giovanni Paolo II fu il Papa della famiglia e chiese a questi due Santi, suoi predecessori, di intercedere per la Chiesa affinché, durante i prossimi due anni di cammino sinodale sulla famiglia e con le famiglie, essa la Chiesa si è dócile allo Espirito Santo nel servizio pastore alle famiglie. Arrivederci.